Un caro saluto da Mario Giuliani, il tempo previsto per giovedì 24 ottobre. Sull'Italia arriva una nuova perturbazione atlantica, la quale interesserà in prevalenza le regioni centrosetenzionali. Ecco allora il tempo previsto al mattino delle piogge sul Piemonte, Val d'Aosta, Ovest, Lombardia, Liguria, Alta Toscana e Sardegna. Il pomeriggio piogge sulle regioni di nord-ovest, Emilia, Toscana, Umbria e Sardegna, piogge che saranno di forte intensità sulla Toscana e temporali sulla Liguria e sulla Lombardia. Nella sera ancora piogge su Toscana, Lazio e regioni di nord-ovest, Veneto e isole maggiori. Bene, per quanto riguarda le temperature, queste saranno in calo sulle regioni settenzionali, tanto che le massime al centro-nord oscilleranno tra i 18 e i 22 gradi. Temperature ancora di sopra dalle medie, soprattutto sulle regioni meridionali, dove verranno raggiunte probabilmente valori massimi intorno a 23-25 gradi, 25 gradi sulla Puglia. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliani.